Buongiorno a tutti, anche quest'anno vi invitiamo a venire in Expo Bici a Padova al paniglione numero 5 per vedere tutto quello che avremo di novità per il 2013. Ecco la prima novità, Arutec Sainess da DH. Seconda novità, Arutec Farness All Mountain. E la tanto attesa Farness con cambio integrato Pinion. E a proposito di Pinion vi faremo vedere nel dettaglio come funziona questo cambio rivoluzionario. Una novità assoluta per l'Italia sono le protezioni e le ortesi della ditta Ortema. Tutti i prodotti sono stati sviluppati nel proprio ospedale ortopedico. Uno dei prodotti di punta è sicuramente questo Neck Brace, leggerissimo, adattabile al vostro corpo, non si appoggia alla spina dorsale e poi è disponibile anche in taglie specifiche per bambini. Questo paraschiena brevettato che vi permette di avere la massima flessibilità in avanti ma altrettanta rigidità all'indietro. Inoltre siamo fieri di potervi proporre il marchio Acros per l'Italia che produce componenti di altissima qualità e tra altre cose uno dei cambi più leggeri al mondo. E ve lo faremo vedere in fiera. Padiglione numero 5.